30.000 like vi mostro mia madre Non importa la censura o tranquilla o signori mia mamma Questo è tutto quello che vedrete purtroppo Forse se arriviamo ad un milione di like vedrete il resto ma non so dirvelo mia madre è molto timida E ci ho impiegato veramente tanto a mostrarvi già solo questo La chiameremo mamma abidas Oggi siamo qua per farle provare Call of Duty Per farle provare Call of Duty Modern Warfare Come mia madre non ha mai E dico mai giocato vero? Non l'hai mai giocato in vita Ti piacerebbe provare un gioco? Beh però sono imbranatissima Non ho il senso nel rientamento Sparo agli uccelli E a questo a noi piace Ragazzi la scommessa, la sfida Facciamo fare un'uccisione su Call of Duty a mia madre Se ci riesce ragazzi 40.000 like Se ce la fai Ok dai devi farcela Mi metto in multigiocatore Modalità con 3 Devi solo fare un'uccisione Ok? Solo una Dove sono qui? In una mappa Ecco vedi pure uno scudo Cioè non puoi fallire Così prendi l'armi Io ti cambierò le armi Tu devi andare in giro Con VW Vedi ti muovi VW è qua Questa qua Lo so che la mia testa è consumata Così ricarichi Brava Guardate ragazzi Si sta già muovendo Mi madre sta già camminando in un videogioco Questo è il tuo mirino? Quando vedi un giocatore Devi spararli Quindi quando lo vedrai Aiuto Dai muovi No no quelli sono due amici Quel mouse di direzioni Questo è il mirino Questo no Questo è il tuo amico Questo è il tuo amico Però sta andando bene Ho visto mamme più impedite di te Basta una kill Basta una kill Dobbiamo farci Quello quello No 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 Piano 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 Allora è a destra A destra A destra Inietro Dov'è la destra? Non lo sai dov'è la destra? Vai avanti Ma perché spari sempre? A sinistra Perché spari? Dico a sinistra muoviti Avanti Avanti No perché spari? VW VW Perché vai? Va bene lo scudo Qua a sinistra No non addosso al muro Allora vai Dritto Ora prendi l'arma Sì ok Perfetto Ora vai avanti Sì certo Non è illegale qua Siamo in guerra I treni sono anche fermi A sinistra Vai a sinistra Allora quando vedi uno Non alza la visuale Tieni il mirino su di lui Gli spari in testa Dov'è? A sinistra Ora vai A destra Dava vedi che si Vedi stai già imparando Avanti Avanti Sinistra Destra Guardi lì Guardi lì Ah Hai fatto un'uccisione Lei l'hai ucciso Lei l'hai ucciso Non ci credo Pensavo che saremmo andati avanti un'ora lo giuro Ce l'ho fatta 40.000 like per un'uccisione di mia madre Basta Bravissima E ragazzi mia madre ora va Ma noi adesso andremo avanti con la campagna Perché abbiamo Abbiamo fatto questa scommessa Se faceva una kill Poteva andare Beh ce l'hai fatta Grazie Ti ringrazio tantissimo Adesso mi sento veramente contento Che lo dici La mia vita è piena Ok basta che Non fai la stessa cosa tu figlio E siamo pari Però ora noi andiamo avanti Con la campagna Ok siamo nella missione dell'ambasciata Capitano Price È qui con noi Abbiamo già vinto Abbiamo già vinto Siamo qua Guardate il casino che succede Mamma mia Mamma mia Aiuto Sono tutti lì Che vogliono i nostri kebab Porca trota Signori Sarà dura Sarà dura Va bene va bene Porca trota Porca trota Loro vogliono prendere il lupo Che è il loro leader Spirituale Stanno E vabbè ma dove l'hanno trovato lì Porca trota Porca bacca Ma siamo con Price Ve l'ho detto Boia l'orso E ovviamente ci salviamo solo noi Povero pilota Sto bene Ecco 3-1 E stazione principale fallita Siamo sul tetto Ricevuto Che si fa capitano Si vince C'è una camera di sicurezza nel seminterrato Dirigetevi lì Vi seguiamo Ok ragazzi Ricevuto ci muoviamo Mamma mia Che bel giorno per essere vivo Ovviamente mi danno solo una pistolina del cacchio Ma sono con Price È lui il mio fucile Signor Price Sensei Maestro Sì maestro Tutto quello che dici è ordine per me E civili signora? Come? Cioè non ha risposto Non ha risposto Ah qua ci sono tutti i tizi dell'ambasciata Siete la squadra di estrazione Non per voi Non per voi Che cattivo Vabbè Porca tro Guardate Stiamo attenti eh Sono cattivissimi Guardali con la cappa Tra un po' verranno per noi eh Sì lo vedo Oh Oh Eh Antiproiettile pezzo di erba Guarda questo Stanno facendo il casino Oh santo cielo Oh io non voglio incontrarli Price ma dobbiamo andare da loro Perché io mi sto cacando nei pantaloni Andiamo No 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 Ehi No no aspetta quello è un bambino Il papà Che dici capitano? Vuoi lasciarli morire? Capitano Oh oh No 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 non potete fare questo di un bambino Sei un pezzo di erba Sei un pezzo di erba Ti spacco la faccia Fatemi aprire sta porta Si poteva aprire Se solo non l'avessi aperto prima Guarda Capitano Oh santo cielo Questa è stata una delle peggiori scene di Call of Duty Vi giuro Manco la missione quella di Modern Warfare 2 Ok sono arrivati Hanno trovato il modo di entrare Oh 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 Cavolo Ho trovato un'arma Ho trovato un'arma Finalmente Finalmente Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Oh questa è una roba Che mi piace Oh finalmente Mamma mia Hanno fatto male a quel bambino Bene Ora farò il triplo a voi Farò il triplo a voi Pezzo di erba Fermo qua Vieni fuori Infame Vieni fuori No perché ho sparato anche Oh Siamo troppo irrequieto Stiamo attenti Ok Ragazzi Ragazzi Li ammazzo tutti I nostri pezzo di erba Ok Voglio stare veramente attenti Si fa per di qua Va bene Stiamo attenti Prendo un Uzi come seconda arma È meglio Fermi qua È arrivato Terminator Salve Sono Gabibbo Aprite Sempre capitano Sempre capitano Oh Oh Io lo farei fuori sto tizio Qua cosa c'ha Può sentirmi Ambasciatore Ma devo Tipo Fai United Predis Con le telecamere Devo salvarlo No Ah Ho fallito la missione Oh Capitano L'ambasciatore è morto Ma posso ascoltare lì La sua assistente Assistente Pronto Ehi Riesci a sentirmi Ehi Sono il sergente Kyle Garrick Stacy Stacy Davidson Fa esattamente come ti dico E ti salveremo Ok Ok Ah devo guidarla Ma nolla Ok Ok Perché noi abbiamo le telecamere Quindi possiamo aiutarla Va bene Va bene Oh cavolo Vai per di là Vai veloce Cori 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 Vai per di qua Vai 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 per di qua Ok Ora la mandiamo avanti Ora prendiamo quella telecamera Dobbiamo portarla proprio No 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 Ferma Ferma Ora vai qua Ok stai ferma lì Stai ferma lì Siamo molto attenti Ok Ora deve andare per di qua Ottimo 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 Mamma mia Non si sono accorti Ok 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 ora Stai ferma Stai ferma Stai ferma Lei è là dietro Vero Ora devi andare là No 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 Ferma Che sedere Vai per di là Cori 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 Santo cielo Che ansia Che ansia Santo cielo Che ansia Vai là dentro Ora guardiamo per di qua Ok Ok Stacey Il telefono Stacey Attenta Mi dispiace Adam Addio Adam Addio Adam No No Stai ferma Cavolo ci serve i viva Sta qua Sì E allora stai con Sei quasi fuori Spostati alla stampante Come facciamo Ah ok Con quel coso Possiamo distrarla così Vai Eccolo 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 Qua possiamo distrarla Devi attivare qualcosa E poi scappare Vediamo dove va la guardia Vai 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 Cori 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 Ora fuggi Ora fuggi Sì Ce l'ho fatta Grande Stacey Oh Grande Ma quella è fara Mamma mia Mamma mia Qua si è preso un proiettile Mamma mia Che tensione Mi è piaciuto questo segmento Con le telecamere Mi è partito pure un colpo Dall'emozione Ma è come un film Lo gioco Vai 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 con la squadra Il gabitim Vicino Dopo il vicolo Oltre la strada D'accordo Apri Ecco Grazie sergente Mi hai saluto È stato un piacere Ci berremo una birra Un giorno Quando staremo In un luogo più tranquillo Oh L'ho visto Beh tutti sono quasi dentro Quindi fuori No no E te pareva E te pareva Ehi 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 Qualcuno vuole una dose Di Basta tirare Molotov L'unico che può tirare Molotov qua Sono io Ehi piano Signorini Signorini Questa strada Mamma mia Ma ce l'hanno su Siete dei messicani Che dovete usare Sempre il piccante Allora Vieni qua Andiamo avanti Ehi questo Ragazzi Non posso far sempre Tutto da solo Dai Vicolo dall'altra parte Ok Signor Price Torni dentro Quella ha aperta la porta Ah ok È ancora una giornata Solita di guerra Non posso andare A fare la spesa Ehi Non dite Le ho adaltizia Riposizioniamoci Subito No perché loro vanno a dirlo Che complesso Mamma mia C'ho visto l'inferno Lì dentro Che io sono l'uomo tessera Ma scusa Siamo a due passi Non è che lo trovano easy Sto posto Non mi troverai fratello Ma ci incontreremo di nuovo Secondo me Lo riescono a prendere Purtroppo Se potessi decidere io ragazzi Se potessi Tu sei prace Tu puoi Puoi volare a lungo Andano qui E' basta Non c'è Chiudo Alex a dire No Coprite quel tetto Dai Il farà Con me Mamma mia Sarà dura Salvarci Ma possiamo farcela Dai I danno Price I marina hanno l'ambasciata sotto controllo Niente in vista signore Torneranno Dalla parte Come lo sai È quello che farete Ah Posizionatevi sul tetto Intelligente E allora stiamo attenti Potrò però arrivare qui da un momento all'altro Ma posso avere un'arma migliore Perché con Wuzzi Non è che posso far molto Qualcuno ha un cecchino Ah grazie Price mi legge nel pensiero Allora qui Cecchino E un fucile un attimino migliore Ok Con queste robe possiamo già Ambientarci Su quel bar Su quel bar Quello Il bar Diverse possibili minacce Disarmati Teneteli d'occhio Vedremo Vediamo che succede Ma non posso zoomare Sono messaggeri Guardano verso di noi Non mi piace Come fanno a saperlo Teneteli d'occhio Ci sono Aia Qualcosa li ha spaventati Cosa Occhio a destra Altri due Dove Ma che succede Cosa c'entriamo noi In questa brutta storia Ragazzi voglio saperlo Ditemelo Sta succedendo Ok ma loro sanno Che siamo qui Perché siamo ben nascosti Eh no Vabbè Non li vedo più Vogliono tenderci un'imboscata Tutto calmo Un momento Vedo del movimento nel campo Ore undici Oh santo cielo Ma sono in mezzo Negativo È solo il vento No non è solo il vento Un'altra parola E ti spedisco Agli ordini Cosa Oh Oh Parca trota Wow Ci penso io Aha Volevate fare il buio Ma noi abbiamo la bacchetta magica Eccoli Oh Fregati Credevano Volevano fregarci col buio Ma non potete Aha Una testina Colpito E affondato Colpito E affondato Così mi piace Scappate Piccoli ratti di fogna Ne tiro un altro Tranquilli Non ne abbiamo un bel po' E luce fu Non se l'aspettavano Che ragazzi Qua veramente Li sistemeremo Uno dopo l'altro Nel mio lavoro Ho imparato Ho imparato dal maestro Questi colpi di cecchino Poderosi e potenti Sì sono ancora vivo per ora Ancora una testa sulle spalle Non so come Devo continuare Si stanno avvicinando Sono sempre più vicini Si stanno lasciando Ma chi lascia così In guerra vera Nessuno lasciarebbe così Questo è un rascio Mai visto Oh vabbè Cattivissimi Cattivissimi Eh vabbè Pure con la gippona Pure con la gippona No 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 Ragazzi No 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 Ragazzi No È l'ultimo Va bene Dobbiamo fare in fretta Abbiamo poco tempo Dai 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 Ok Credo che li abbiamo fatti fuori tutti Non so come Ce ne ho fatta Andate bene a quel paese Eh a quel paese Siamo noi A quel paese Oh che Insomma dai Ce no ce no Quasi finite Conservate i conti Non sprecate Io ce ne ho Diecimila capitano Oh no Capitano Ancora Non credo proprio Se ti facessi un hatch Ora andranno sul tetto della casa Vero Madre del cielo Sparate a tutti Mi ha beccato in pieno Scappiamo 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 Porca vacca Stanno spaccando tutto Basta con sto portaio Non morirò quest'oggi Non qui Non così lontano da casa Mi faremo entrare Questo è il muro Puoi dietro capitano Ce l'hai fatta Grande zio Grande zio Stiamo facendo il possibile Sto finendo le munizioni capitano Le ho finite Aiuto Ah no le ho trovate Ci abbiamo fatta Ehi Siamo ancora vivi Un miracolo Ok andate a rifornirvi all'edificio Oh Ok Però dai non sono messo neanche malissimo Mi stava simpatico questo zonda Tranquilli Ma per me Tutto per me Prendo anche un mp5 a questo punto Guarda Anzi no forse il cicchino è meglio Una spada laser Ah ok Se me lo dice il capitano Va bene io la seguo Mamma mia però adesso stanno diventando cattivissimi Mi stanno lanciando i creeper addosso Stiamo esplodendo male Eh vabbè Eh vabbè ragazzi Ci penso io con il laser Con il laser li faremo fuori La Sì È come giocare con il gatto con il laser Solo che questa volta Fa qualcosa di utile Oh bene Dai dai esplodete Oh Ma vieni Sì ma ragazzi Sono Sono troppi Cioè ma quanti figli hanno fatto sti qua Troppi Oh sono finiti Non per molto Non per molto Vabbè Già per Già per cinque minuti è tanto Ti posso rubare Qualcosa dalla saccoccia Io vado e rubo dagli zaini degli altri Ancora piccoli sconosciuti Un'autobomba Che facciamo Che facciamo Non vedo Sì è un'autobomba 100% È un'autobomba 100% Aspetta Vabbè tranquillo Tranquillo in mezzo alle fiamme Quello Ok Quelli non sono civili però Volevano di nuovo Basta Basta portare quelle macchine Avete esplodete Cioè Usate sempre gli stessi posti Non mai avete stancato Oh Boom Poi è bello perché ce n'abbiamo un casino Dai Quella Quella macchina non sta esplodendo Quella macchina non sta esplodendo Oh Ora è esplosa Ok Droni in ricarica Questa volta va ad andare avanti a mano Bravo 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 Basta Mamma mia Vi giuro che non ho mai visto così tanti terroristi come oggi Ricevuto 4-1 Grazie per l'aiuto Che significa Ha finito il carburante Siamo di nuovo soli Ah Sei pronti Beh ha fatto tanto dai E di nuovo Sì ma dai Non l'avevo già distrutto quel posto Di nuovo lì Fatto fuori Devo andare anch'io E allora andiamo Ragazzi finalmente posso uscire da sto posto Vai 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 così Vai così ragazzi Li avevate in base Come loro sono venuti alla mia Ambasciata Io ora Vado alla loro Se mi lasciano Un secondo Un secondo Che sto vedendo un po' in modo daltonico Ok A posto Dobbiamo andare dal loro mortario E morirlo Chiusa Ragazzi non c'è niente di chiuso se abbiamo queste armi Dai Ah devo salire Ehi a dire Come i vecchi tempi eh La nostra solita tattica Quella che usiamo sempre Ma non potevamo farlo da questo Ok Ok Va tutto bene Entriamo Oh 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 Bravo Bravo Casa mia questa Casa mia È diventata casa mia Vi entriamo in casa Come al solito Oh Amir È stato bello Una cagata esplosiva Aspetta che qua dentro c'è uno Non si aspettava Ma io ho il potere del salvataggio Ragazzi dov'è che è il Ah è qua Eh là Ah lì è là Ragazzi Mi sta venendo l'ansia Perché Mi stanno veramente venendo troppi Troppi Ancora con le jeep Basta Ce le hanno infinite Ok A parte che io volendo Ho il fucile sotto canna Boom Quella torretta Addio macchinetta Dove devo andare Ok Allora devo Devo arrivare vivo Devo arrivare vivo Ancora Salve Non se lo aspettavano Oh Pure un uomo sulla jeep Mi abbasso perché questa è una tattica di Call of Duty A passarti quando ti sparano Sei molto più forte Ok Ma ragazzi c'è una via d'uscita Dove devo andare Ah ma sono tutti qua Mamma mia Quanti Quella pozzetta di sangue Era una persona un tempo Che bello queste cose Veramente Molto bello sapere queste cose Basta Ora Lupo Non puoi scapparmi signor lupo Ehi Silenzio Devo salvarti sempre Stacy Oh Sei una maga cacciartina i guai Com'è bloccata Ehi Doh Ma lo sapevo Un muro sfondato Porca puttana L'hanno preso Lo troveremo Manco 5 secondi l'abbiamo tenuto Basta la squadra all'incrocio Portatevi tutto Sì farà Il piano farà Il lupo è col macellaio I terroristi li nasconderanno Vabbè ragazzi Che roba Non vedo l'ora di vedere nel prossimo episodio Che cavolo succederà Questo è durato un botto Questa missione Quindi Credo che concluderò qua Per la piena di azione Mi è piaciuta un botto Nel prossimo episodio Andremo avanti Magari nel prossimo episodio Vi farò tre missioni di fila Lo farò super lungo Il prossimo Quindi Rimanete sintonizzati Che Andremo avanti con il gioco Mi sta piacendo sempre di più Spero anche a voi Lasciate un like Per mia madre Che è riuscita a fare una kill E dai Magari un giorno Ve la mostrarò anche del tutto Ma non so quando Quando gli andrà Se un giorno gli girerà Lo faremo Ma per questo episodio era tutto Spero vi sia piaciuto E noi ci vediamo Al prossimo Ciao ragazzi